Torniamo a Expo Medicina per fornire ancora una volta a tutti coloro che seguono Medical Excellence informazioni utili e ovviamente in tempo reale. Allora direttore si parla spesso ormai di PNRR, lo sentiamo tutti parlare, ma a che punto siamo nella regione siciliana? Allora, buongiorno, grazie per l'invito. Sì, è chiaro che ormai oggi sembra quasi che la sanità esista solo grazie al PNRR, si ha solo la tema. Ovviamente non è questo, ha un aspetto importante, predominante, soprattutto per tutto quello che è il cambio del paradigma che si sta implementando. Noi passiamo da una sanità ospedale centrica a una sanità di prossimità, quindi sul paziente, addirittura anche a casa. Sul piano delle attività, quello che è previsto dal contratto istituzionale di sviluppo, quindi che fissa gli obiettivi, le scadenze, siamo assolutamente in linea con quanto programmato e sottoscritto. Il 30 settembre la regione siciliana ha certificato con successo tutte le COT, le centrali operative territoriali, sono state anche oggetto di un decredi dell'assessore che ne sancisce, come dicono i fondi europei, che sono funzionali e funzionanti, quindi assolutamente in linea. In più, ormai dieci giorni fa la regione siciliana ha sottoscritto il contratto per lo sviluppo della piattaforma di telemedicina. Ad oggi sono solo due le regioni che hanno già completato l'IDER per contrattualizzare la piattaforma di telemedicina regionale che sarà integrata con quella nazionale, una delle due è la regione siciliana. Quindi questo è già un dato che possiamo dare a chi ci segue, che si parla sempre, che in Sicilia siamo in ritardo. In realtà questa volta siamo la seconda regione, l'unica, vuol dire, insieme a un'altra regione che abbiamo presentato il progetto relativo alla telemedicina. Assolutamente, noi l'obiettivo che è stato posto dal governo regionale e stiamo perseguendo è quello di essere una regione normale. Non vogliamo essere i primi, ormai gli ultimi non lo siamo. Non ci sta bene più. A fine il primo gennaio 2027 l'obiettivo è che la regione siciliana sia annoverata tra le regioni normali, né più né meno. Non ci manca nulla da un punto di vista delle professionalità, del know-how, della storia, dell'esperienza. Adesso dobbiamo mettere, però direttore abbiamo altri due step importanti. Ovviamente attuare tutto questo e poi soprattutto la sostenibilità. Quindi una volta che abbiamo realizzato tutti i progetti necessari per poter adempiere a quanto ci richiede il PNRR, poi dobbiamo anche dimostrare di poterli mantenere, no? In questo ambito come ci stiamo muovendo? Questo proprio è un punto chiave, poco attenzionato, anzi complimenti per... È un qualcosa che ritengo si debba iniziare a ragionare già da adesso. Perché intanto è stato fatto un cambio di cultura importante. Il PNRR non è un programma di finanziamento. Perché la cultura, ma non solo da noi, in tutto il territorio nazionale, se non attuo gli interventi, perdo i finanziamenti. Il PNRR no, è un programma performance. Io devo fare determinate attività, realizzare determinate infrastrutture in tempi stabiliti e mi vengono assegnate delle risorse. Se mi bastano, bene. Se non sono sufficienti, le devo integrare con risorse regionali. Se dovessero essere superfule, tornano indietro. Ovviamente non lo sono, non fosse altro per il follo incremento dei costi che c'è stato a seguito delle varie crisi in Ucraina e altro. Però questo è un aspetto veramente importante, la sostenibilità. Perché oggi noi stiamo correndo tutto, tutte le regioni, stiamo correndo a costruire questo nuovo castello. Però poi il castello deve tenersi su, se no crolla. Qualcuno, diciamo in maniera un po' facilona, dice, bene, bisogna incrementare il Fondo Sanitario Nazionale. No, secondo me no. Va rideterminata la spesa, ma nei vari ambiti. Perché quello che si sta realizzando con il PNRR è, finalmente, la realizzazione di un ecosistema socio-sanitario. Quindi le spese non sono spese della sanità esclusivamente, ma riguardano e impattano in maniera considerevole anche l'aspetto sociale. Cosa voglio dire in termini più... Oggi il PNRR è un investimento, quindi da un punto di vista tecnico di bilancio, sono delle risorse date alla regione, la regione alle aziende, si chiamano per investimenti, quindi in conto capitale. Realizzate queste, la spesa diventa sul mantenimento. Tecnicamente il bilancio, spesa corrente. La spesa corrente bisogna attingerla su altre spese che la realizzazione di questa nuova architettura dell'ecosistema socio-sanitario ci va a sgravare. Quindi, oltre all'aspetto tipicamente ospedaliero, sanitario, quindi spesa sanitaria, ma anche spesa sociale, vanno rideterminati, ma questo va fatto a livello centrale, quindi a livello Stato e conseguentemente regioni, i risparmi che si hanno in aree non sanitarie devono essere riversate come risorse di spesa corrente per mantenere gli ospedali di comunità, la telemedicina, l'assistenza domiciliare integrata, ecco, tutto questo va rideterminato dalla spesa. È un giro di conto, però chiaramente parte da un livello alto, da un livello centrale. Sente direttore, allora cerchiamo, vediamo se riesco in qualche maniera, l'ho captato e trasferirlo in maniera semplice a chi ci segue da casa. Ovviamente il PNRR ci dà la possibilità di utilizzare dei fondi per realizzare ovviamente degli investimenti in tutto quello che sono l'ambito strutturale e non del comparto sanitario. Il mantenimento e la sostenibilità ovviamente di tutto ciò che viene realizzato poi deve essere a carico delle regioni o dello Stato che devono in qualche maniera mettere quei soldi che risparmiano nei servizi che hanno in qualche maniera ottimizzato sfruttando queste nuove strutture. Assolutamente sì, è proprio questo il passaggio da fare. E in questo secondo lei direttore, mi scusi, l'autonomia differenziata se dovesse essere attuata così come negli anni prevede il governo la regione siciliana secondo lei è in grado di poter mantenere la sostenibilità di tutto quello che il PNRR prevede di fare? Esula un po' il mio campo Certo, ci auspichiamo Io ritengo di sì perché comunque la base di tutto è sul rendere disponibili dei nuovi servizi una nuova sanità Comunque certo sono utili assolutamente Quindi è chiaro ed evidente non è una criticità specifica solo della nostra regione Assolutamente E di tutto il tessuto produttivo di tutta la nazione Però lei dice che dobbiamo pensarci prima Bisogna iniziare a ragionarci prima Perché stiamo sviluppando un nuovo modello Come stiamo facendo in regione Abbiamo già attuato e rese operative delle case di comunità pilota Degli ospedali di comunità pilota Non l'abbiamo fatto per essere rettolosi Ma proprio per iniziare ad adottare questo nuovo modello Iniziare a capirne le difficoltà nell'implementazione Come lo devo ottimizzare Su questo c'è un accordo fatto con Agenas Che ci sta seguendo su questo Qui proprio a Catania abbiamo una casa di comunità Ormai quasi da un anno E sta sperimentando questo nuovo modello gestionale Però ripeto I modelli gestionali nuovi vanno sperimentati La nuova architettura deve essere anche studiato prima E trovata la soluzione Come poter mantenere il castello su Come dicevamo prima E qua veniamo alla domanda che le ho fatto sulla sostenibilità Allora io sono molto contenta di aver avuto con me oggi Il dottor Mezzano Perché lui è un uomo davvero L'uomo PNRR Che però guarda oltre Ecco io devo dire Gli faccio i complimenti qui pubblicamente E anche in diretta Perché generalmente io sento sempre Ovviamente parlare dei progetti attuali Di quello che si deve fare nel progetto attuale Lui invece ha questo sguardo oltre Nel senso che però lavoriamo Per fare in modo che tutto ciò che noi costruiamo Possa avere una sostenibilità nel suo mantenimento E questo vuol dire E' la lungimiranza che serve alla nostra regione Ci mettiamo la buona volontà Allora per chiudere direttore Ai nostri telespettatori che ci seguono Possiamo dire che A differenza di tutti coloro che magari immaginano Che il PNRR sia Un Vuol dire Fautore di cattedrali nel deserto Che in realtà non è così No, 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 assolutamente Ci credo fortemente Perché Il commitment che è stato dato è Impegnativo E sfidante I cattedrali nel deserto Non se ne fanno più Ci sono Tanti controlli Tante verifiche C'è poi tutta una programmazione Una pianificazione Che è stata valutata Giudicata e approvata Da più organi Dal livello regionale Dal livello statale A livello comunitario Quindi Questo falso Questo falso mito Lo possiamo battere Assolutamente Non è proprio il caso Diciamo Troviamo altri motivi Per preoccuparci Non questo Direttore Noi le ringraziamo Le auguriamo buon lavoro In Sicilia Stiamo lavorando davvero In maniera spedita Avete sentito Che siamo anche Una delle due regioni In Italia Ad aver presentato Il progetto relativo Alla telemedicina Le criticità esistono Nessuno le nega Lavoriamo tanto Per cercare Di recuperare Quella normalità Che già in altre regioni C'è Però sono Sono fiduciosa Che le cose Piano piano Andranno come devono andare Grazie Buon lavoro Grazie a voi Una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti